gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia ieri sera c'è stata una manifestazione di protesta fuori da montecitorio dei gli esponenti di centrodestra salvini meloni e vicepresidente di forza italia tagliani prima di tutto conte atteso in parlamento non si è fatto vedere per fare la sua diretta facebook agli italiani per spiegare il dpcm incredibile ma vero mentre lo aspettavano in parlamento lui aveva la diretta facebook poi soprattutto che cosa si sta discutendo in parlamento si sta discutendo si sta discutendo di clandestini di immigrazione ma non per risolvere il problema ma per cancellare i decreti sicurezza di matteo salvini che funzionavano senza ombra di dubbio vengono cancellati per mettere qualcosa che va nella senso opposto quello di cercare di far arrivare e trattenere più clandestini possibile voi direte perché una reale spiegazione non c'è c'è solo la fuori immigrazionista e il fare il dispetto al centrodestra per sbandierare al proprio elettorato che loro hanno cancellato quello che ha fatto di male il cattivone di matteo salvini naturalmente una sinistra decisamente infantile così giorgia meloni intervistata in questa manifestazione dove sono stati intervistati tutti e tre i leader del centrodestra tagliani furioso salvini che dice conte è un pinocchio giorgia meloni presidente di fratelli italia aveva già espresso la sua opinione durante il suo ultimo intervento alla camera dei deputati proprio mentre conterà su facebook dice mentre i negozi chiudono i porti aprono mentre gli imprenditori italiani sono disperati gli scafisti festeggiano mentre gli italiani viene impedito di passare da un comune all'altro agli immigrati si vuol favorire il passaggio da una nazione all'altra io penso che questo sia da cinici pazzi irresponsabili dice e se il presidente conte invece di fare il presidente del consiglio degli italiani vuole fare il presidente del consiglio degli immigrati allora si rimetta perché il suo stipendio lo pagano gli italiani non vogliamo stare a discutere di immigrazione noi vogliamo parlare dei problemi degli italiani è intollerabile dice la presidente di fratelli italia che mentre noi parliamo del decreto in sicurezza di conte lui vada su facebook a dire che cosa gli italiani potranno o non potranno fare a natale poi interviene anche il vicepresidente di forza italia antonio tagliani portavoce del cavaliere che dice questo governo non ha una politica seria per contrastare l'immigrazione clandestina pensa di fare una riforma positiva e invece sarà negativa non c'è nessuna strategia per l'integrazione di chi lavora regolarmente nel nostro paese non c'è una strategia per fermare l'immigrazione dall'africa per fare accordi bilaterali non c'è una strategia che costringa l'unione europea a investire più di quanto investito fino ad oggi cambiare delle regole per renderle più lassista la posizione dell'italia è un errore grave la parte finale che dice tagliani è molto importante cambiare delle regole e aggiungo io che funzionano per rendere più lassista la posizione dell'italia è un errore grave io aggiungerei gravissimo che si potrà recuperare ma il danno lasciato da questo ci sarà e continuerà ad esserci beh diciamo che a questo punto il governo spera di riuscire con i voti a passare e cancellare questo decreto sicurezza ma attenzione che non è proprio così scontato che ci possa riuscire al senato proprio perché nelle chat dei cinque stelle furiosi dicono ma chi ha deciso che noi siamo a favore della cancellazione di decreti sicurezza e di del sia la riforma del messe quale consultazione popolare lo ha deciso quale consultazione dei dei parlamentari lo ha deciso naturalmente la gran parte dei grillini se non la quasi totalità è d'accordo con il centro destra sull'efficienza e l'efficacia di questi decreti sicurezza ma non può non possono apertamente andare contro il pd perché vorrebbe dire aprire una crisi di governo far cadere magari il governo e andare ad elezioni e loro non se lo possono permettere perché con il vincolo del secondo mandato sarebbero o in pensione perché voi sapete che i parlamentari dopo quattro anni sei mesi un giorno hanno diritto alla pensione o in pensione qualcuno che al primo mandato potrebbe essere rieletto e la maggior parte che però sono al secondo mandato o vanno in pensione o o comunque non possono più essere rieletti nel movimento 5 stelle la camera è stata anche occupata simbolicamente dal centro destra proprio perché mentre l'italia è alle prese con la crisi sanitaria economica sociale il governo pensa i clandestini ma pensa i clandestini ma non vanno in parlamento per votare ieri c'erano da votare gli ordini del giorno proprio sui decreti legge sicurezza ma è mancato il numero minimo mancavano 5 persone per essere al numero minimo ma in realtà non è che mancavano 5 persone ne mancavano centinaia centinaia solo nel movimento 5 stelle mancavano 94 persone nel pd mancavano 39 persone quindi se voi fate il calcolo tra il pd che mancavano 38 persone più 4 di liberi uguali più mi sembra 6 di renzi più 95 del movimento 5 stelle mancavano 143 deputati del movimento 5 scusate del governo 143 impressionante vero questo la dice tutta su quel grande impegno che ci mettono questi uomini delle istituzioni per la nostra patria è l'italia è in questa grave crisi e loro non vanno neanche a lavorare quel lavoro che gli da ben 13 mila euro netti al mese per neanche presentarsi perché è che noia star lì ore e ore per star lì a votare questi questi ordini del giorno meglio stare a casa guardare la televisione andarsi a fare un giro andare a vedere come spendere questi 13 mila euro qualche regalo no io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata siamo su facebook e anche nel nell'altro canale di youtube tele italia seconda rete grazie e buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti